ho scritto io ragazzi intanto you lose e lui intanto metti una palata in puglia come rosica la gente no? ma la potrà? no la ne ho fatto, io le mie in barica non le ho usate dov'è quello amici? dai qui sto con banana sparato da dietro grazie 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 grazie